Domani ottavo sbarco di profughi al porto di Ortona. 35 emigranti, tutti di origine bengalese, sulla Ocean Viking, la nave della ONG SOS Mediterranea, che ha soccorso gli uomini a bordo in pericolo a largo di Malta, arriveranno al porto di Ortona alle ore 17. I 35 emigranti nella notte tra domenica e lunedì erano a bordo di un'imbarcazione a largo di Malta, infreddoliti e disidratati dopo aver trascorso tre giorni in mare. Erano partiti dalla Libia su un'imbarcazione in vetro resina e sono stati soccorsi nell'area di ricerca congiunta tra Malta e Italia. A bordo della Ocean Viking è presente un'equipe medica. La nave arriva domani a Ortona alle 17, annunciato il vice prefetto con delega all'immigrazione Gianluca Braga, il quale spiega che i migranti, una volta giunti al porto, saranno trasferiti con pulmini nell'area artigianale più in là di Tamarete, un'area attrezzata e rodata per i controlli sanitari, le identificazioni e una macchina organizzativa che vede tutti gli attori coinvolti. I migranti del Bangladesh resteranno in Abruzzo e saranno smistati nelle quattro province abruzzesi. In giornata un summit per i particolari e per dirimere eventuali problematiche, con il coordinamento della prefettura di Chieti.